Clamoroso Genoa-Inter 0-0 i nerazzurri creano 180 occasioni da gol in senso metaforico e non riescono a farne uno il problema persiste già da inizio 2022 dopo che Lautaro ha avuto un impatto molto positivo con l'Inter di Inzaghi a inizio anno poi si è spento Dzeko che ovviamente non può prendersi in mano l'Inter tutte le partite perché è arrivato in una certa età già è tanto quello che sta facendo il sacrificio torna in difesa lancia gli esterni però non riesce più a segnare con continuità l'Inter sta avendo problema serio in fase offensiva il problema persiste ormai è questa l'Inter e non approfitta nemmeno del pari del pari del Milan contro l'Udinese poi c'è il Milan in queste due partite con Salernitana e Udinese rigava un punto e l'Inter non gli recupera nulla perché perde col Sassuolo a San Siro e oggi pareggia contro un Genoa che si deve salvare con il nuovo allenatore stanno arrivando tantissimi pareggi 17 punti a meno 5 dalla zona salvezza la zona che li tiene salvi però attenzione perché non è facile per la squadra rosso-blu che però sta guadagnando punti ma oggi io voglio capire come l'Inter non sia riuscito a buttare neanche una palla neanche con le mani in porta una roba clamorosa clamorosa iniziamo subito a parlarne perché a parte che nel primo tempo Gudmundson dopo pochi minuti si dipora un gol clamorosa tu per tu con Andanovic la spara fuori e ha avuto un'occasione colossale per il vantaggio genoano che però non è stata sfruttata al meglio e poi c'è stato anche un miracolo di Andanovic cioè il Genoa nel primo tempo ha avuto qualche occasione cioè con Meleconi che recupera palla a centrocampo avanza calcia e poi Andanovic prima in controtempo e poi fa un miracolo un miracolo perché lui con la mano di richiamo perché diciamo inizialmente era in una posizione un po' come dire messo male era messo male Andanovic però poi recupera con un grandissimo gesto tecnico con la mano di richiamo poi la tiene lì e la prende in un secondo momento e questa è una gran parata dell'estremo difensore che quando è in giornata è in giornata cioè c'è poco da fare è comunque Samira Andanovic però ovviamente non garantisce tutta questa continuità ormai da uno o due anni a questa parte quindi sicuramente c'è bisogno di qualche nuovo portiere qualche rifornimento che arriverà comunque in estate come un portiere come Unana l'Inter che nel primo tempo ha prevalentemente il possesso del pallone e anche nel corso di tutto il match però pochi tiri nello specchio pochi tiri nello specchio l'Inter deve migliorare sotto questo punto di vista se vuole vincere lo scudetto perché il Napoli non sta lì a guardare non c'è solo il Milan che sta un po' frenando così come il Napoli che ha pareggiato col Cagliari ma non sta a guardare il Napoli il Napoli non sta a guardare il Napoli attenzione perché può vincere con la Lazio ovviamente sarà difficile col Stadio Olimpico ma in caso di vittoria in caso di vittoria il Napoli supererebbe l'Inter che ha una partita in meno ma per come stiamo vedendo nessuna nessuna partita è scontata vanno tutte giocate e il Napoli andrebbe a quota 57 a pari col Milan che sta perdendo troppi punti comunque poi arriva la traversa nel secondo tempo di D'Ambrosio dopo che l'Inter continua ad avere il possesso nel pallone per gran parte del match ovviamente un 70% di possesso palla e poi il dato sui passaggi è una roba clamorosa il dato sui passaggi 600 passaggi contro 240 e poi con Blassin stanno arrivando tanti pareggi per la squadra come non detto Rosso-Blu che comunque dovrà provare a salvarsi ma questo è un pareggio che gli sta molto 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 stretto però l'Inter deve migliorare deve migliorare sotto porta assolutamente perché non si può continuare a perdere punti così a bambera perché c'è comunque la Juventus che zitta zitta quota 47 in caso di vittoria nella giornata di domani andrebbe a 50 e 50 punti vuol dire meno 5 dai nerazzurri meno 7 dal Milan e considerando che sono squadre che stanno frenando spesso non è non è scontato che la Juve non possa passare una di queste squadre attenzione attenzione perché la Juve deve deve ha l'obbligo di approfittarne ha l'obbligo di approfittarne per queste frenate delle squadre da davanti e quindi per me l'Inter di Inzaghi che ci prova poi arriva anche un gran tiro di Lautaro con un mezzo scavetto al volo però bravo Sirico a non farsi impensierire e mandarla in calcio d'angolo una vittoria che però ragazzi manca dal 22 di gennaio contro il Venezia 2 a 1 all'ultimo minuto strappato perché in seguito sono arrivate la sconfitta nel derby contro il Milan rimontati tra l'altro dall'1 a 0 al 2 a 1 in tre minuti 1 a 1 con Napoli 2 a 0 con Sassuolo 1 a 0 con Genoa se vogliamo considerare anche la UEFA Champions League perso 2 a 0 in casa contro il Liverpool un Inter che non sta vivendo un periodo facile non sta vivendo un periodo facile non vince da 6 partite odierne e quindi penso che siano in netta difficoltà questo è poco ma sicuro e devono assolutamente trovare un rimedio i zaghi deve trovare qualcosa che sia di seconda linea per far ripenire fuori questa Inter che ormai mancata ben troppo per questo è tutto fatemi sapere la vostra qua sotto lo scuretto è tutto aperto tutto riaperto nuovamente ciao